Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento addominale all'ospedale di Londra, London Clinic e attualmente si trova ricoverata. La notizia proviene da fonti della corte britannica che non hanno rivelato dettagli sul suo problema di salute. I media britannici, inclusi People e Daily Mail, escludono l'ipotesi di cancro. La principessa del Galles rimarrà in ospedale per almeno 10-15 giorni prima di continuare la convalescenza a casa. L'operazione è avvenuta il 16 gennaio, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell'intervento. La consorte dell'erede al trono riceverà cure aggiuntive prima di concludere il periodo di recupero a casa. La sua salute è al centro dell'attenzione, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla natura specifica dell'intervento sulle condizioni di Kate. Fonti vicine alla corte dei reali fanno sapere che l'operazione all'addome alla quale è stata sottoposta è riuscita con successo. La principessa di Galles è ricoverata ora in ospedale a Londra e dovrà rimanere sotto osservazione per altre due settimane circa, prima di poter proseguire la convalescenza casa. Non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali fino a Pasqua. Con un comunicato ufficiale diffuso sui profili social, Kate ha fatto sapere il suo desiderio, ovvero che le informazioni mediche e personali rimangono private. Nella nota si è poi scusata per gli impegni annullati. La principessa di Galles desidera scusarsi per il fatto di dover rimandare i suoi prossimi impegni. Si augura di poterli recuperare non appena possibile.